Per secoli l'uomo ha rivolto lo sguardo verso il cielo, cercando di leggervi i segreti del futuro, cercando di sondare la mente di Dio, chiedendosi che cosa sta per accadere al mondo? Forse la terra sta per essere distrutta? All'Apostolo Giovanni il Signore mostrò in visione la grande battaglia fra il bene e il male. Con il capitolo 14 dell'Apocalisse giungiamo al suo momento più drammatico. Giovanni scopre in visione tre angeli che volano nel cielo proclamando i tre messaggi più importanti della Bibbia. Ed eccoci al nostro studio odierno, il messaggio dei tre angeli. Giovanni racconta la visione, vidi un angelo che volava alto nel cielo e aveva il Vangelo Eterno per predicarlo al mondo intero. Che cos'è il Vangelo Eterno che l'angelo deve predicare al mondo intero? Vangelo significa buona notizia, si tratta della buona notizia della salvezza, salvezza che può venire solo da Cristo. La Bibbia dice infatti solo Gesù Cristo può darci la salvezza. Il Vangelo Eterno è la potenza di Dio che rende possibile la nostra salvezza e ciò mediante Gesù che accettò di morire al posto nostro. Isaia predisse Egli è stato trafitto a causa dei nostri peccati, è stato flagellato a causa delle nostre cattiverie. Tutti noi eravamo dispersi come pecore senza pastore, ciascuno di noi andava per la sua strada, ma il Signore trasferì su di lui le nostre colpe. Gesù comandò che questo Vangelo Eterno, la sua salvezza, fosse predicato fino al suo ritorno. Questo Vangelo del Regno dovrà essere predicato in tutto il mondo e allora verrà la fine. Ed eccoci al messaggio del primo angelo. Temete e glorificate Dio perché il tempo del suo giudizio è venuto e adoratelo perché ha creato il cielo, la terra, il mare e le sorgenti. Innanzitutto il messaggio ci esorta a temere Dio, il che significa essergli riverenti, ubbidienti e leali. Glorificare Dio significa riconoscere a Lui l'onore e il merito per tutti i nostri privilegi. La maggioranza della gente oggi non teme più né glorifica Dio, pone se stessa al centro del proprio interesse. Perché occorre sottolineare il messaggio di Dio creatore e redentore? Perché il tempo del giudizio è venuto. Stiamo vivendo gli ultimi tempi prima che Cristo ritorni. Il giudizio è già cominciato. Quando Gesù ritornerà il giudizio sarà terminato e verrà emanato il verdetto. Il malvagio continua ad essere malvagio ma chi è giusto continua a essere giusto. La Bibbia dice Dio ha fissato un tempo durante il quale giudicherà il mondo con giustizia. Per l'angelo questo giudizio è un evento presente. Il tempo del suo giudizio è venuto, cioè è presente. L'angelo continua adorate Dio perché ha creato il cielo, la terra, il mare e le sorgenti. Qui viene sottolineato il potere creatore di Dio. E in che modo noi possiamo riconoscere e lodare Dio come nostro creatore adorandolo e ubidendogli motivati dall'amore. E per approfondire la nostra adorazione di Dio in qualità di creatore il Signore istituì il sabato. Il quarto comandamento dice infatti in sei giorni il Signore finì la creazione e il settimo giorno si riposò. Perciò il Signore benedisse il sabato e lo santificò. Questo comandamento prescrive di osservare il sabato in onore al Dio creatore. Se lo facciamo dimostriamo di riconoscere Dio come creatore. Il sabato è il memoriale della creazione. Ci ricorda che Dio deve essere adorato per il fatto che è il creatore e noi siamo le sue creature. E riassumendo il messaggio del primo angelo ci esorta a temere Dio, glorificarlo, prepararci per il giudizio e adorarlo anche mediante l'osservanza del sabato. Il messaggio del secondo angelo indica i risultati della disubbidienza al primo messaggio. E' caduta, è caduta la grande Babilonia, è caduta perché aveva fatto bere a tutti i popoli il vino inebriante della sua prostituzione. Il termine Babilonia trae origine da Babele. Dopo il diluvio universale Dio aveva promesso che la terra non sarebbe mai più distrutta mediante l'acqua. Ma tempo dopo la gente costruì la torre di Babele per sfuggire alla morte qualora ci fosse un nuovo diluvio. Perciò Dio li disperse mediante la confusione delle lingue. Da allora Babele o Babilonia divenne sinonimo di confusione e ribellione. Babilonia rappresenta quindi il regno di Satana e l'estremo opposto del regno di Dio che è rappresentato dalla nuova Gerusalemme. Satana creò il suo regno fin dalla sua ribellione nel cielo e l'inganno di Adamo ed Eva. E' un regno fatto di ribellione, di menzogne, di sofferenze e di schiavitù. Il regno di Satana si estende su tutta la terra. L'Apocalisse dice è caduta, è caduta la grande Babilonia, è diventata dimora di demoni e rifugio di spiriti immondi. Tutte le nazioni hanno bevuto il vino della sua sfrenata prostituzione. Al cuore di questo regno c'è un sistema di falsa religiosità. Ai sinceri ricercatori della verità, che si trovano all'interno di tale sistema, il Signore invia un messaggio di avvertimento. Uscite da Babilonia, o popolo mio, per non diventare complici dei suoi peccati. Fuggite per non subire insieme con lei il castigo delle sette piaghe. Il Signore desidera riunire le sue pecore in un unico gregge. Forse alcuni trovano difficile abbandonare la chiesa alla quale appartengono dalla nascita, ma il Signore vi fa una promessa. Voi appartenete a Dio e avete vinto il mondo, poiché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Gesù in voi vi aiuterà a vincere le false dottrine di Babilonia. Di voi, dice il Signore, avranno diritto all'albero della vita e potranno entrare nella santa città. Che ne sarà invece di coloro che seguono Satana? La Bibbia dice Babilonia berirà come un masso immerso nell'acqua e non se ne troverà più alcuna traccia. Ed eccoci al terzo messaggio che viene emanato a causa delle condizioni mondiali di allontanamento dalla verità. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e riceve il suo marchio sulla fronte o sulla mano, costui berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice del suo terribile giudizio. Il messaggio è duplice. Primo, non adorare la bestia né la sua immagine. Secondo, non accettare il suo marchio sulla fronte o sulla mano. Che significa? Il primo angelo sottolinea il diritto di Dio a essere adorato. Il secondo chiama i sinceri adoratori che sono in Babilonia a recarsi da lui. Il terzo esorta a non accettare il marchio di Satana. Negli ultimissimi tempi ci saranno solo due categorie di persone. Coloro che avranno il marchio della bestia e quelli che avranno accettato il sigillo di Dio. Innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è il sigillo di Dio che sarà applicato ai veri fedeli poco prima della distruzione del mondo. L'Apocalisse dice non devastate la terra finché non abbiamo segnato i servi del nostro Dio con il suo sigillo. I servitori di Dio, dice ancora la Bibbia, avranno il nome del Padre scritto sulla loro fronte. Il sigillo di Dio rappresenta il suo potere di creare e di redimere. Coloro che hanno il sigillo di Dio possiedono un carattere trasformato, hanno fede in Gesù e ubbidiscono a Dio. Però più precisamente il segno del potere di Dio di creare e di redimere è il sabato. Egli dice ho dato loro i miei sabati affinché siano un segno fra me e loro. Il sabato è uno dei comandamenti. L'Apostolo Giovanni dichiara da questo dimostriamo di conoscere Dio osservando i suoi comandamenti. Trasformati dall'amore di Dio noi sentiamo il desiderio di ubbidirgli e il suo sigillo in noi consiste proprio in questo. Io metterò le mie leggi nella loro mente, le scriverò nel loro cuore. Il sigillo di Dio è dunque un carattere trasformato che prova desiderio di ubbidirgli a lui. Quindi il marchio della bestia è un carattere che si ribella contro Dio e contro la sua legge. Uno dei mezzi usati da Satana per allontanarci da Dio è stato il cambiamento del sabato con la domenica. Quando la chiesa cominciò ad allontanarsi dalla fede degli apostoli gradualmente introdusse nel suo credo delle pratiche pagane. Fra queste accettò la domenica che era il giorno festivo dedicato al Dio sole. La chiesa cattolica si attribuisce la paternità di tale cambiamento. Il cardinale cattolico James Jebons dichiara potete leggere la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse e non troverete neppure un versetto che autorizzi la santificazione della domenica. La Sacra Scrittura stabilisce l'osservanza del sabato. Ma il marchio della bestia si compone di due aspetti. Primo, l'accettazione volontaria della domenica. Secondo, l'accettazione volontaria delle altre false dottrine. Il giusto modo, le autentiche dottrine e il vero giorno con cui Dio viene adorato, tutto ciò costituisce il sigillo di Dio. Il modo sbagliato, le false dottrine e il giorno non prescritto dalla Bibbia con cui si pretende di adorare Dio, tutto ciò costituisce il marchio della bestia. Prima del ritorno di Gesù ogni persona dovrà scegliere se adorare Dio o la bestia simbolica. Allora tutti saranno sigillati, o il sigillo di Dio o il marchio della bestia. Poco prima del ritorno di Cristo, Satana e Babilonia cercheranno di imporre il marchio della bestia simbolica a tutta la gente. Cercherà di imporre a tutti il suo marchio. Satana farà in modo, dice il testo, che tutti quelli i quali non adorano l'immagine della bestia siano uccisi. Ma il piano di Satana fallirà. Infatti, quando il popolo di Dio sarà radonato per essere ucciso, Gesù ritornerà. Giovanni scrive, poi guardando vidi una nuvola bianca. Sulla nuvola era seduto uno simile al figlio dell'uomo. Sul capo aveva una corona d'oro e in mano una falce affilata. Caro amico, vuoi prendere la decisione di adorare Dio e di servire soltanto Lui? Vuoi accettare di farlo nel modo indicato dalla Bibbia? Questa è la sola via verso la vita eterna, verso il regno di Dio, un regno di pace e di gioia, molto vicino a noi. Decidi allora di appartenere al popolo di Dio attuale, così come è descritto dal terzo angelo. Qui si deve mostrare la costanza del popolo di Dio. Sono coloro che mettono in pratica i comandamenti di Dio e rimangono fedeli a Gesù. Beati coloro che osservano i suoi comandamenti perché avranno diritto all'albero della vita e potranno entrare nella santa città. Lo Spirito Santo e la sposa dell'agnello dicono, vieni, chi ha sete venga. Chi vuole l'acqua della vita ne beva gratuitamente. Amico mio, accetta i messaggi dei tre angeli e avrai pace e gioia in Cristo Gesù.